Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata a barrette kinder. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono barrette kinder maxi, farina di tipo 00, burro, zucchero semolato, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci, scorza di limone e gocce di cioccolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina, il burro, le uova e il tuorlo, il lievito e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e facciamo amalgamare per 20 secondi anti orario velocità 2. La nostra frolla è pronta, avvolgiamola nella pellicola trasparente e posizioniamola in frigo per almeno 30 minuti. posizioniamo anche in frigo le barrette kinder. Abbiamo ripreso la nostra frolla dal frigo e anche le barrette kinder. adesso ne togliamo un terzo e lo mettiamo da parte e stenderemo la restante frolla tra due fogli di carta da forno. abbiamo steso la nostra frolla. Adesso la posizioneremo in una teglia delle misure di 25 x 25. schiacciamo bene sul fondo e anche sui bordi e adesso posizioneremo le nostre barrette kinder maxi. mettiamo momentaneamente da parte e stendiamo l'altra frolla. una volta stesa posizioniamola sopra la crustata. sigilliamo bene i bordi. cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti circa. la torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. crostata barrette kinder. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!